ma cos'è successo a youtube? guardate qua strano boh andiamo a vedere sigla ciao amici di youtube stavo girando un po su youtube e ho visto quassù che era cambiato qualcosa la scritta youtube era un po più un grassetto quindi ho detto mi fai vedere se è cambiato qualcosa siccome tempo fa andai in queste impostazioni che vi faccio vedere allora voi andate qua in basso prova le nuove funzioni e prova il nuovo youtube tempo fa avevo fatto prova il nuovo youtube mi era venuto nel tema scuro mi era durato circa una settimana e poi dopo niente non sono più riuscito a utilizzare il tema scuro e c'era scritto grazie per i tuoi feedback abbiamo preso in considerazione le tue prove insomma sembrava che fosse un beta test o qualcosa del genere avendo visto qua sopra che era cambiato questa scritta ho detto fammi un po vedere che succede se riprovo a fare questo quindi prova il nuovo youtube ci clicchiamo vai su youtube prova il look rinnovato eccolo qua diciamo che di default è così è così quindi è cambiato tutto non so se alcuni di voi ce l'hanno ancora a me mi è durato proprio una settimana vedete che le impostazioni adesso sono qui non bisogna andare giù e in fondo alla pagina in fondo sono tutte qua niente tanto riattivo tema scuro perché a me piace sinceramente e poi vediamo che non possiamo più andare nel mio canale da qua ma qua andiamo nella home nelle tendenze nelle iscrizioni cronologie e quant'altro ma per andare nel mio canale andiamo di qua mio canale creator studio cambio account esci tema scuro impostazioni che sono quelle di prima vediamo fatti sempre bianco dietro nient'altro lingua italiana contenuti da italia possiamo scegliere se vedere contenuti da un determinato da una determinata nazione anzi che un'altra modalità con restrizione disattivata ripristi una versione classica di youtube se non vi piacesse vedete che lui vi dice perché vuole sapere perché perché manca qualcosa alcune funzioni sono accessibili eccetera eccetera diciamo che sta facendo un sondaggio youtube se vi piace o non vi piace questa nuova modalità e niente ragazzi questo video è brevissimo era solo per farvi vedere che ecco ha cambiato youtube mi fa molto piacere è molto molto dilassante questo tema scuro mi piace va bene così ok raga niente iscrivetevi al mio canale e like se vi è piaciuto ciao a tutti amici